Salve a tutti gente e benvenuti in questo canale, io sono Letto47 e oggi siamo di nuovo su Amnesia Ehm, bene, perché siamo qui? Perché tra un po' sta per uscire Amnesia 2, credo Non ho capito se è una mod o proprio è Amnesia 2, vabbè, insomma Ehm, e niente, siamo qui appunto per fare una storia personale, come dice il nostro caro, la nostra cara scrittina Ehm, e niente, questa costume story si chiama OnlyFear Ehm, sicuramente avrete notato che la mia voce è cambiata, non perché mi sono fatto un'operazione alle corde vocali Ma bensì perché ho cambiato delle cuffie, dato che facevano altamente cagare Perché qui c'è scritto continua Cazzo, mi sa che l'ho già fatta questa O forse no Hm Che incende, ho osservamente controllato nel canale per vedere se l'avevo già fatta Ma a quanto pare non l'ho fatta, quindi iniziamo Ehm, non capisco perché c'è scritto continuo, vabbè, noi la iniziamo così Bla 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 Comunque, dicevo prima di interrompermi Eppure mi sa che l'ho già fatta questa Boh, vabbè Ehm, oh che cazzo De già No, 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 no No, 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 no Ehm, dicevo, ho cambiato le cuffie Perché le altre si sono rotte E il microfono mi faceva altamente cagare Ehm, mi son preso le Turtle Beach X12 Sono veramente belle come cuffie Sono comode Ehm, praticamente quando te le metti addosso Sei in un mondo Paral, praticamente non senti niente Ehm, al di fuori del gioco Ti isolano parecchio Cioè, quindi se mi passa tipo un aereo dietro Non lo sento e magari esplode anche la casa No, vabbè Evitiamo, evitiamo Ehm Comunque Concentriamoci sulla Ah no Mi stavo dimenticando Ho avuto problemi al computer Quindi come potete notare Amnesia sta laggando Perciò Ehm Non l'ho ancora portato a riparare Però, diciamo Riesco ancora a giocare Nel limite del possibile Ed è proprio per quello che Non ci sono stati più video E poi, vabbè Era vacanza Quindi Chi se ne frega Ehm No, vabbè Non volevo dire chi se ne frega Non, non Non pensate male Ho guardato da poco Gli iscritti Sono 92 Credo Prima di fare questo video Li ho controllati Ho una memoria di merda Non mi ricordo più quanti iscritti ho Ehm E comunque è un bel traguardo Insomma Figo Stanno crescendo in poco tempo Cioè state crescendo in poco tempo E intanto Oh Minchia Mi intrufolo nei buchi Vabbè Vabbè Lasciamo da parte I doppi sensi Ehm Ecco Quindi dicevo Siccome il computer è mezzo scassato Ehm Ho fatto l'unboxing Di Delle cuffie Dai Cadi Squidoletto Cadi Ok basta Ok basta Ehm Oh merda Cazzo Ai Ok Ci abbiamo fatto Dicevo Ho fatto l'unboxing Delle cuffie Sendo che Praticamente Appunto avendo Quel problema Non mi fa registrare Da Sony Vegas Ma sei stupido Madonna Oh frutti Come cazzo lo devo usare Qua? No? Ok Qui Oh Va bene Oh Perfetto Spero che faccia paura Perché Volevo Insomma Una costume story Che facesse paura Non Di quelle cagattine lì Che Dovano i tre ore a girare Non c'è nessuno Bene Ehm Intanto il mio mouse Squittisce Ah 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 Batutina Mouse Topo Ok no basta Era pessima Ehm Lì ci sono pezzi di intestino Anche lì Qui Un letto Bene Ehm Credo che mi cambierò Anche il mouse Perché Sta diventando Abbastanza scomodo Usare questo Topolino Saliamo le scale Peppere Peppi Oh 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 Che cazzo Chi va là? Ehi C'è nessuno? Ok no Peppere 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 che credo che in questi giorni porterò il pc a riparare e quindi niente, quindi tra un po' almeno un video a settimana lo caricheremo noi del canale, dato che c'è il nostro Arachiri che si è riempito di video e ogni tanto mi chiede quanto cazzo li posso caricare, gli dico aspetta prima mi riparo il computer e poi... ok ma non mi interessa a nessuno questo discorso, perchè sto parlando così, vabbè insomma, parliamo delle pietre, ciao pietra, ok tra l'altro me ne dovrei portare una dato che l'altra volta mi sono salvato di culo lanciando una sedia al mostro, magari metterò una clip così, giusto, giusto così alla random, tanto sta raggando il mondo, oh 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 oh, ok 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 ok, sto, stupida musica smettila oh 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 che cazzo ok mi sei mo' saltata la camera da sola, no vabbè la statuetta l'ho presa io, non diciamo belligerate niente cassetto, niente nel cassetto, vediamo da quanti minuti sto Sto registrando, non vorrei fare un video di mezz'ora Non ho la condizione del tempo Ok, non faccio domande Ho il terrore di aprire di cazzo Di cosi Questa base è sospettosa Aia, mi sono preso un coccin' testa E niente Niente cosa Pianoforte Qui cosa c'è? Uh, olio Basta, ma è noiosa sta parte Saltiamola tutta E qua si è aperta una porta E ovviamente io ci entro Ah, ha fatto bene ad entrarci Chiave Chiave per che cosa? Wow, un'armatura Dai Daniel, mettitela Cazzola moglie, ho detto mettila Daniel Daniel Si chiama Daniel? Lo pensavo Quella cosoli insomma Ho preso una chiave, non so nemmeno che porta apre Wow, no qua ci sono arrivato Eh, non mi piace questo suono Wow, un'altra Ok, chiusa Ci sarà la chiave Sono un genio Bene Chiudiamola, non si sa mai Io continuo ad avere paura Qui intanto Che figata Avrei immaginate andare tipo in un supermercato Prendere tipo Dalli scaffali Primo scaffali Inizierà buttare giù la merce È una cosa un po' cattiva Però, vabbè dai Così si fa lavorare Il personale del market Ma no, cazzo I libri Porca Dovrò rimettere l'enciclovedia a posto Sedia Vieni con me Ok, c'era pure il caricamento Giusto per Non mi ricordo Da quanto li facevo i video Mi sa, 20 minuti Credo di sì Oddio Sono fuori Cioè, praticamente sono fuori dal mondo Non mi ricordo più Più un cazzo Non mi ricordo più Infatti Ho paura di fare Un commentare di merda Dato che sono fuori all'entamento Oh, ho degli stracci Prendi Stupido Daniel Ok, va bene Handicappato Non so il motivo Di questo Lancio Così da Ok, posso prendere Cosa dell'inchiostro Ma non posso prendere Il Il libri Oh, cazzo Ah, no, vai Ma abbiamo olio Non ci preoccupiamo Non dobbiamo farci problemi Questa cosa è aspettoso Ok Oh, acerino Oh, cazzo Buio pesto Per qualche istante Non avrete visto niente Sicuramente Tutut canalizzate No No, ma che cazzo mi sto muovendo Non venire qui Non venire qui Ti prego Non venire qui Merda Oh ma Oh aspetta 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 Vediamo la lanterna Che cazzo fa? Sta ballando Ehi Ehi Oh no 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 Ok via 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 Non è stata una buona idea Non è stata una buona idea Non è stata una buona idea Aspetta però Non sono deciso Magari è uno di quelli lì Che appena ti attaccano Spariscono Rischiamo 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 gente La sedia Amica sedia Ma è stupido Ma è stupido No no ma è stupido Oh 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 No 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 sedia No no perché 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 Cazzo 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 Era travolontana la sedia Era travolontana la sedia Sgabello 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 Non mi tradire Non mi tradire Sgabello Ok Oh cazzo Oh cazzo 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 Ah ma è sparito Lo sapevo io Io fingevo Non avevo paura in realtà Ok prendiamo La sedia Stupida sedia Perché mi hai tradito Via No ok No foglietto Foglietto Che non posso prendere Quindi non trovo l'utilità Ok qua spunta un mostro No No ok Libri Alla cazzo Ok Oh Olio Chiave 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 Cacciarino Che non li ho ancora utilizzati Giusto per Giusto per La cronaca Vediamo a che punto siamo Uh 14 minuti Che cazzo Oh 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 No 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 Oh merda 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 Non puoi No Ok ok Via 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 Oh cazzo 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 Questa non è un buffer Questa non è un buffer Questa non è un buffer Questa non fa puf, non fa puf, non fa puf Chiudi, chiudi, chiudi Non fa puf, questo non fa puf Questo non fa puf Cazzo Che cazzo è? Apri, apri, chiudi, 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 chiudi Armaglio, 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 armaglio Ok, ok, ok Ok Ok, inizio a far paura a sta cosa Sento dei passi Ho paura Ho tanta paura Non venire qui Non venire qui Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Sfondami le porte No, no, no Non dicevo a te Scusami, scusami, scusami Ok, puoi sfondarle quante vuoi Ciao Ok Bene Facciamo una cosa interessante qui Facciamo così Così Ma finisce come quello di Scooby-Doo Tipo che È il mostro che mi passa gli attrezzi Dai Scusate è un procedimento molto lungo però Devo farlo per la mia inculubità Ok Prendiamo questi Perfetto Non cadere Capisci che se cadi Non mi puoi proteggere Quindi non cadere Bene, 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 bene Proseguiamo Oh Figo No 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 Situazioni del genere L'olio non deve mancare Se sentite questo scricchio rio È il mio mouse È appunto il mouse che Squittisce Allora Ma Oh c'è il microfono Ok No Dubbi Sul funzionamento corretto Del Delle cuffie Ok Questa è chiusa E Come cazzo faccio io ad aprire Una cosa che Non c'è Non c'è la chiave Quindi Sarà qui sopra Ok Si è frizzato tutto No Non è qui sopra Che cazzo è sta chiave Oh Trovata 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 Ah no Sono brava Perfetto Oh Piede di porco Minchia è già il secondo piede di porco Che trovo Allora Allora Prendiamo il piede di porco Ok Sono andato a un'altra porta Allora vediamo Quanto Siamo Bene Se vi piacerebbe vedere Se vi piacerebbe vedere appunto su questo canale L'amnesia a machine for pigs Se non sbaglio si chiama così Siccome gliela volevo fare Volevo chiedere un vostro parere Iscrivetevi tutto nei commenti E niente Noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 ciao